il tuo gol, Federico, strepitoso, un attimo quasi di stanca, hai trovato forse un angolino come è stato? Raccontaci quella fiammata ho avuto un po' di fortuna, l'ho portata dentro, è stato un mezzo rimpallo poi insomma ho visto il portiere che era un pochino, forse copriva un po' di là ecco, l'ho colpita proprio bene, è partita bene, insomma dai, ho dato il via alla rimonta Federico, Bigatti mi ha già detto una domanda che ti avrei fatto quest'anno Sant'Angelo ha anche una signora panchina qualcuno dalla panchina si alza e fa un gran gol del 2-2 Sì, speriamo di qualche volta di non dovermi per forza alzare per fare gol scherzi a parte, sicuramente una rosa ampiamente all'altezza della situazione penso giocatori, diciamo tutti su pari livello e questa deve diventare sicuramente la nostra forza oggi lo è stato e insomma speriamo che lo sia anche nel proseguo del campionato Si può dire che è il primo vero banco di prova di Sant'Angelo quest'anno, da questo mese e mezzo di inizio? Sì, sì, forse oggi è stato il momento dove siamo veramente andati più in difficoltà da inizio della stagione, eravamo sempre stati abituati ad essere sempre in vantaggio con largo margine, oggi come si suol dire ci hanno messo la frusta però abbiamo risposto con il carattere, questo secondo me è un segnale molto importante Sinceramente era rigore, perché come avete visto in campo quel fatto curioso? Per loro? Per voi, c'è quel rigore che è andato, poi non è andato? Il rigore è ineccepibile, poi star qui a guardare se era fuori gioco o meno questo sinceramente, l'impressione del campo era che era nettamente in gioco e dopo bisognerebbe rivederlo in televisione però l'impressione del campo era che fosse nettamente in gioco Mister, un primo tempo un po' così, un secondo tempo visto un grande carattere e una grande reazione? Sì, primo tempo un po' così per il fatto che si è passato in svantaggio, doppio svantaggio abbiamo secondo me sbagliato non l'approccio alla partita ma la poca determinazione in queste due palle perché gli abbiamo concesso di mettere un cross con troppa facilità sotto di 2 a 0, era una gran salita io credo che sia nel primo che nel secondo la gara l'ha fatta il Sant'Angelo il pareggio penso stia stretto per le occasioni da reti che abbiamo visto in campo loro potevano magari fare più di due gol, noi potevamo farne sicuramente qualcuno in più è una gara che dimostra che i campionati non si vincono prima ma si vincono sul campo quindi è un buon monito per le prossime partite bisogna andare in campo più umili, l'umiltà non si deve dire ma si deve dimostrare